Il buddismo dice Non mettere mai sotto il gatto se non vuoi che il gatto metta sotto te E' la sintesi del buddismo Ma è del genere, non è del latino, è del bassaccio, dell'indiano, che ne so Ma lo sa che ha un bel colpino Tutte droie Dici un po', dici un po', ragazzi, guardate lì Momento memorabile, ragazzi, in cielo c'è lui L'avvocato Giovanni Agnelli, passiare nel ricortero Ma noi, ce la faremo mai ad arrivare lassù Gianni, ciao Cipollino Attenzione, stanno arrivando gli Uppisi, i giovani di successo Quelli veramente giustissimi Hanno già invaso le nostre città Viaggiano in turbo, lavorano in basic Sono firmati dalla scarpa alla mutanda Uppis, gli emergenti dell'86 Ehi! Ehi!